stai qui però guarda Rass, Rass è solo brucia in ripresa eh Rass si è bello carico eh l'ultimo sempre la Maria Giulia e quindi dove arrivano? che arrivava un cuovo e vinto Rass hai capito? frena! frena! guarda che coi spinge spinge più dei cavalli è un vittorino se guardi le proporzioni merda che cazzo fa qua? vabbè vabbè posso non raccogliare? per il sirino